Buon venerdì, ma non solo buon venerdì, buon venerdì 5 maggio. Oggi è una giornata speciale per i Juventini, a me dispiace non averla vissuta quando ero bambino con consapevolezza perché ero troppo piccolo, avevo 9 anni, pronto a cumperne 10. Ricordo benissimo quella giornata, ricordo benissimo il clima di festa che aleggiava in casa Toselli, ricordo benissimo la reazione di mio papà che era veramente una Pasqua, ricordo anche che la sera andammo a vedere uno spettacolo di James Tont, di Fabrizio Fontana, mio padre si presentò con la maglia della Juve, ci fu anche un simpatico siparietto con uno scambio di battute tra il comico e mio papà, quindi io ho questo ricordo, nel 5 maggio 2002 mi viene in mente questa cosa qui, e sicuramente deve essere stata una bella botta di adrenalina per i tifosi della Juventus e parlare oggi un attimino di scudetto credo che sia anche abbastanza coerente con quello che è accaduto ieri sera a Udine, dato che ieri sera aritmeticamente, matematicamente, il Napoli di Luciano Spalletti ha meritatissimamente vinto questo scudetto e voglio farvi complimenti davvero dal profondo del mio cuore, visto che da parte mia non c'era questo pronostico, anzi io immaginavo un Napoli che doveva lottare per qualificarsi all'interno della Champions League, lottare per un posto Champions insieme a Roma e le altre tre, Juventus, Milan e Inter, invece non è stato così, anzi è stato proprio il Napoli a vincere lo scudetto meritantissimamente, dominando e ammazzando il campionato e proprio Juve, Milan e Inter invece a dover lottare insieme alla Roma per una qualificazione Champions, a me il calcio piace anche per questo, perché è in grado veramente di stupirti e di darti delle novità sempre sulle quali ragionare e quindi andiamo anche a monitorare quella pista che porta a Giuntoli del Napoli che ha contribuito alla creazione di questa rosa, soprattutto in questa stagione ma comunque anche in tutti gli anni precedenti, Giuntoli che uno dei nomi principali per la dirigenza della Juventus per il ruolo di direttore sportivo, tra l'altro tra Allegri e Calvo in questi giorni dovrebbe esserci una sorta di summit proprio anche per discutere un po' di programmazione e di direttore sportivo, che come dicevamo anche ieri è il primo nome sulla lista degli obiettivi della Juventus insieme all'esterno destro, infatti mi è dispiaciuto che ieri in tanti non abbiano capito il senso del video perché ieri non è che vi dicevo che l'addio di Quadrado è una brutta notizia certo, a me dispiace perché Quadrado è un giocatore che ha dato tanto la Juve, la brutta notizia è l'atto Juventus per la predisposizione della rosa sugli esterni, a maggior ragione sulla fascia destra, una piccola puntualizzazione e niente, dicevo Scudetto, tanto ieri sera qui da casa mia sembrava di essere veramente a Napoli centro Napoli città, i fuochi d'artificio, le macchine che passavano, un mio amico che tifa Napoli che è entrato praticamente nel vialetto di casa mia con la bandiera a suonare, a urlare per salutarmi è stata una cosa bella, devo dire la verità, anche da tifoso di un'altra squadra è stata una cosa molto bella perché io ricordo, dato che vi dicevo non ricordo il 2002, però ricordo il 2012 dieci anni dopo, ero un po' più grandicello, avevo vent'anni e abbiamo fatto praticamente la stessa cosa io e altri cinque, sei miei amici juventini su una macchina da nove posti, mi pare sette posti non mi ricordo quanto fosse grande, comunque un macchinone che giravamo per la piazza del paese suonando il claxon con la bandiera, le sciarpe, le maglie fuori dal finestrino ed è stata una bella emozione, dato che quello è stato il mio primo vero Scudetto da tifoso da Juventus, da tifoso che ha avuto la fortuna di seguire tutta la stagione perché poi, ripeto, in precedenza si guardava le partite a casa mia, se sono sempre viste però uno era troppo piccolo, due ero poco interessato, tre non ho mai dato continuità è stato il mondiale del 2006 poi a farmi apprendere che cosa potesse essere effettivamente il calcio e darmi consapevolezza di doverlo seguire quindi io ricordo che bene o male abbiamo fatto le stesse cose per quello Scudetto immagino magari una tifoseria come quella del Napoli che ha dovuto attendere più di trent'anni io nemmeno ero nato appunto quando il Napoli aveva vinto l'ultimo Scudetto per festeggiare un traguardo importantissimo che hanno inseguito, sfiorato per tanti anni e dove siamo magari stati più bravi noi a vincerlo proprio qui vorrei andare a parare perché ieri c'è stato poi il tweet di congratulazioni da parte della Juventus nei confronti del Napoli io quando ho letto questo tweet ho controllato due o tre volte perché ho detto ma è vero oppure no, è vero oppure falso perché ora su Twitter, non so se lo sapete, ma Elon Musk ha deciso di rimuovere le spunte blu veramente una decisione ridicola alle persone, alle organizzazioni e dare le spunte blu a chi paga quindi questa cosa è allucinante quindi potremmo creare praticamente un account di un giornalista di un politico, di un allenatore ho visto che gira un account di Massimiliano Allegri verificato semplicemente perché paga un abbonamento anche se non è effettivamente Massimiliano Allegri questa roba è allucinante quindi mi sono guardato il tweet della Juve due o tre volte e ho cercato di capire se fosse effettivamente l'account ufficiale della Juve beh, lo era, ve lo sono andato a recuperare quindi voglio leggervelo visti i tanti complimenti ricevuti in questi anni non potevamo esimerci congratulazioni al Napoli per la conquista del terzo scudetto del suo terzo scudetto tweet con una frecciatina tweet volutamente polemico tweet che ovviamente ha scatenato ancora di più la polemica io vi devo dire la verità io sono molto d'accordo con questa linea perché negli anni veramente noi abbiamo scritto pagine, pagine di storia indelebile che rimarranno lì nove campionati vinti di fila era una roba che non si era mai vista peccato non aver raggiunto il decimo peccato non aver fatto una stella consecutiva però per tanti anni queste vittorie, questi successi meritatissimi anche in quel caso della Juventus a volte scudetti veramente uccisi a inizio campionato ricordo l'ultimo scudetto di Allegri in cui vinciamo il campionato credo a novembre una roba del genere arriviamo a dicembre che ormai i giochi sono fatti il primo scudetto di Ronaldo è stato veramente una roba allucinante per distacco per anche il livello delle pretendenti sicuramente però quella Juventus lì era una Juventus costruita per vincere è diventata una vera e propria schiaccia sassi e per tanti anni sono mancati i complimenti da parte degli avversari magari anche da parte delle rivali storiche come possono essere appunto l'Inter o in questo caso il Napoli che era diventata una rivale all'interno di questo ciclo degli scudetti che scassa il mondo mai una volta mai una volta che si potesse arrivare ad avere le congratulazioni da parte del settore comunicazione di questa società addirittura il Napoli nell'anno che vince deve rivangare il passato parlare di altri scudetti che avrebbe vinto di fronte ad errori arbitrali addirittura il sere dell'Aurentis diceva prossimo obiettivo è la Champions se gli arbitri non andranno a fermarci ecco io credo che questo sia il modo peggiore possibile per parlare di calcio questo sport è meraviglioso è anche un tifoso avversario come sono io di fronte a un'impresa vera e propria come quella del Napoli perché è un'impresa per il mercato che aveva fatto per i nomi che aveva salutato per lo scouting che ha eseguito per il lavoro di Spalletti sul campo per quello che è stato il Napoli in questa stagione per il percorso magnifico anche in Champions League per quanto ha spaventato magari anche altre squadre europee anche le squadre inglesi ricordo le partite di Champions con il Liverpool ricordo un girone meraviglioso del Napoli quindi veramente questo Napoli ha fatto una stagione meravigliosa e io sono il primo tifoso a essere contento di poter fare i complimenti a una squadra che ha super meritato sul campo e ce l'ha dimostrato perché semplicemente sono stati più forti purtroppo non tutti la vedono così purtroppo per tanti invece è più bello giustificarsi più bello buttarla in cacciara o semplicemente sminuire il successo degli avversari perché magari stanno antipatici io credo che la Juventus e il Serie abbia fatto un tweet giusto perché semplicemente stare in silenzio e basta sperando che prima o poi possano cambiare le cose beh questo non fa cambiare le cose invece smuovere le acque e fare un tweet del genere comunque di congratulazioni ma facendo anche capire che in passato lo stesso trattamento nei nostri confronti è stato differente e continua a essere differente perdere un'occasione del genere secondo me sarebbe stato troppo scomodo quindi credo che sia stato giustissimo questo tweet della Juventus credo che sia giustissimo congratularsi con il Napoli ma credo che sia anche giusto non indignarsi di fronte a questa cosa perché se Juventus arriva a fare quel tweet il motivo è uno e uno solo e cioè negli anni precedenti le congratulazioni da parte degli avversari spesso e volentieri sono mancate e qui la colpa ovviamente non è di Juventus